bentornati sul canale oggi vedremo un mini impianto fotovoltaico off grid che significa staccato dalla rete ovviamente senza le pretese di poter alimentare grandi carichi vedremo come con pochissimi componenti con una minima spesa realizzeremo questo mini impianto che ci permetterà di ricaricare ad esempio i nostri dispositivi mobili grazie all'energia fornita dal sole come sempre vi lascerò tutti i link in descrizione il cuore del sistema è questo regolatore di carica poi avremo bisogno di una batteria 12 volt in questo caso 12 volt 12 am per ora poi ovviamente avremo bisogno del pannello fotovoltaico questo che vedete è un piccolissimo pannello molto sottile che è stato realizzato dal produttore per la ricarica per il mantenimento delle batterie auto ma in questo caso l'utilizzeremo per il nostro impianto infatti è già provvisto di morsetti per la batteria in particolare è un pannello da 18 watt con una corrente massima di un ampere questi regolatori di carica economici sono più o meno tutti simili hanno le stesse funzionalità e quello che dovremo controllare magari è la corrente massima accettata in ingresso in questo caso si di un regolatore 12 24 volt 20 ampere questo modello è provvisto anche di due porte usb in modo da poterli utilizzare per ricaricare direttamente i nostri dispositivi la prima cosa da fare è collegare la nostra batteria 12 volt ai capi del regolatore il regolatore si è acceso e ci indica una carica della batteria di 12,4 volt quindi quasi carica adesso dobbiamo collegare il pannello fotovoltaico mi sono collegato ai due morsetti con un cavo rosso che sarà il positivo è un cavo grigio che sarà in negativo in più ci ho messo un interruttore per staccarlo questo che abbiamo realizzato è già un piccolo impianto fotovoltaico off grid e possiamo già iniziare a sfruttarlo collegandoci via usb per ricaricare un telefono eccolo che si carica ovviamente in questo caso stiamo sfruttando solo la batteria dato che siamo al chiuso e il pannello non è irraggiato quindi non produce corrente adesso proverò a portare il pannello all'esterno e vediamo come funziona ho messo il pannello all'esterno ho collegato il positivo al cavo blu e il negativo sul cavo giallo verde adesso le connettiamo alle due porte rispettive più e meno si è acceso il simbolo del pannello e sta ad indicare che sta caricando la batteria in questo momento siamo a 12,3 volt negli ultimi due contatti potremo prelevare tranquillamente 12 volt come vediamo dal tester e potremmo già alimentare una striscia led delle lampagne 12 volt o qualsiasi altra cosa che necessiti nel caso avessimo la necessità di prelevare dal nostro impianto una tensione alternata di rete di 230 volt dovremmo aggiungere al nostro impianto un inverter tipo questo un inverter questo molto sovradimensionato dato che è un 1000 watt che ci permette di trasformare la 12 volt continua in 230 alternata in sostanza dovremmo collegare in parallelo alla nostra batteria l'inverter questi grossi cavi rosso e nero sono i capi che vanno collegati alla batteria e sul retro abbiamo le due prese asciuco che ci forniranno 230 volt interruttore c'è una presa usb anche su questo in più c'è il contatto per un pannello di comando remoto ecco ho collegato l'ingresso dell'inverter direttamente sulla batteria mai collegarlo direttamente sul sul regolatore perché rischiamo di bruciarlo in questa maniera nel frattempo la batteria si è caricata come vedete siamo a 14,2 volte accendiamo l'inverter eccolo qua adesso è pronto per per essere utilizzato e in questo caso utilizzeremo una classica lampadina 230 volt come vedete si accende ovviamente questa conversione da 12 a 230 volt porta con sé una perdita di energia parliamo di circa il 10 per cento quindi la cosa migliore in questi mini impianti è quella di sfruttare direttamente i 12 volt evitando completamente gli inverter parlando un po di teoria abbiamo che la batteria è una 12 ampere ora mentre il pannello ci fornisce un ampere questo significa che una carica completa si avrà in 12 ore a patto che il pannello si trovi nelle migliori condizioni di raggiamento solare quindi un pannello più potente ci permetterà di avere una ricarica molto più veloce infatti ipotizzando la stessa batteria da 12 ampere ora è un pannello da 50 watt che fornisce 2,78 ampere avremo che una ricarica completa in pieno sole si avrà in 4,3 ore pollice in su se il video vi è piaciuto se vi è stato utile iscrivetevi al canale e attivate la campanella noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao